sono più di un migliaio fino ad oggi le piante messe a dimora dai volontari della cooperativa tre ponti in tutta l'area adiacente alla struttura tra impianti sportivi bcc arena e chiesa aree verdi che con pochi soldi le piantine erano pochi più che dei germogli quando sono state piantate e molta buona volontà ora sono dei piccoli gioiellini a disposizione della comunità e che negli anni diverranno ancora più belle e rigogliose ultimi arrivati ma non ultimi per impegno i più recenti interventi di abbellimento nell'area verde adiacente alla chiesa della Madonna della Colonna dove sono state collocate tre belle panchine in legno e posizionata anche una palizzata sempre in legno di ben 170 metri a delimitare tutta l'area dove si tiene anche l'annuale festa della Madonna noi abbiamo iniziato sei anni fa mettendo a dimora delle piantine che erano veramente mignon oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti e abbiamo completato il lavoro facendo una bella recinzione delle panchine sperando che tutti possano usufruirne e che sia un esempio per tanti altri di poter continuare anche nei loro quartieri a fare questo lavoro ecco qui nonostante la statale c'è una piccola osi di pace il verde c'è la cooperativa tre ponti con i suoi impianti è un luogo dove anche la presenza della chiesa qualifica il posto sì gli impianti non sono della cooperativa tre ponti gli impianti sono genio del comune di Fano il teatro e del comune di Fano sono tutte opere pubbliche che sono state realizzate grazie al lavoro di tante persone che hanno collaborato a far crescere la nostra città se ciascuno pulisce davanti a casa la città è sicuramente più pulita però questo è un esempio di come i volontari col proprio lavoro possono rendere tutto l'ambiente gradevole sì e questo esempio dovrebbe essere seguito e valorizzato questo spero che sia apprezzato da tutti in tutte le sedi